ok destra 2 stai dentro sali 30 stai a destra sinistra 2 tutto dentro taglia poco piega destra esci largo arre stacca tornante destra stai dentro intornante sinistro ritarda chiude poco intornante destra ritarda molto subito sinistra 1 due tempi il secondo ritarda tieni subito destra 2 per sinistra 4 lunga chiude poco 20 alla zebra sinistra 4 sfiora in destra 5 vai per piega sinistra dosso stai al centro piega sinistra 50 vai vai tutto pieno cartello stacca sinistra 3 tieni tutto in destra 2 ritarda taglia poco 20 piega sinistra vai per destra 5 vai sconnesso stai a destra torna a torno a sinistro stai a destra torna a torno a sinistro bravissimo 20 dosso a re invito a sinistro e tornate a destra 30 sinistra 5 per sinistra 4 in alla casa sinistra 2 tieni alla casa apre vai per al palo invito a sinistra tieni in destra 3 gira vai per destra 3 due tempi subito a sinistra 5 tre due tempi subito a sinistra 5 scivola 50 occhio chicane tra destra bravissima destra 5 venti sinistra 5 scende scivola stacca occhio chicane sinistra 4 ritarda subito a sinistra 4 lunga lunga al cartello entra destra 5 non tagliare esci largo dai per invito a destra il tornante sinistro ritarda poco 20 sinistra 4 in destra 3 ritarda subito sinistra 3 tieni tutto in tornante destro esci largo il tornante destro sinistra 4 per destra 4 in sinistra 5 anticipa sfiorarei destra per sinistra 3 stacca subito tornante sinistro in tornante destro esci largo stai a destra 4 per destra 3 meno vai 3 meno vai 20 sinistra 3 anticipa per destra 3 meno vai 3 53 sera 3 ora vai 1